Come una tappa di montagna, ogni percorso di vita è un alternarsi di salite e discese, momenti durissimi, poi sollievo, castigo e misericordia. Il ciclismo è un poderoso esercizio del corpo che, oltre alla forza muscolare, necessita di formidabili energie mentali. Parte di qui il nuovo libro di Davide Cassani, dal punto più amaro della sua lunga carriera, quando, appena esautorato dal ruolo di CT della nazionale, si trovò da solo sul divano di casa a gioire per la conquista dell'oro nella gara su pista a Tokyo 2021 per scandagliare a una ad una tutte le risorse interiori che la bicicletta gli ha permesso di sviluppare negli anni. L'ingrediente di base è la passione, sbocciata già nel 68, quando il babbo lo portò a vedere Gimondi al Mondiale. Il libro è dedicato a tutti coloro che hanno una passione per la bicicletta, non è il solito libro che parla di allenamenti, di gran fondo o di corse. No, è la mia storia, anzi, attraverso la bicicletta spiego come tante volte nelle difficoltà si possono trovare delle opportunità. Il ciclismo è sempre più pericoloso, questo è un grosso problema. La morte di Davide Rebellin, l'incidente che c'è stato qui in Puglia quest'oggi, siamo sempre noi ad urlare la nostra difficoltà nel percorrere le strade perché ci sentiamo insicuri, perché non c'è rispetto da parte degli automobilisti nei confronti dei ciclisti. E quindi bisogna assolutamente fare qualcosa perché in Italia ogni anno muoiono 250 persone in bicicletta. Grazie.